cosa dice l'articolo 2 della costituzione italiana l'articolo 2 della costituzione italiana fa parte dei principi fondamentali della costituzione italiana la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge e richiede che cosa l'adempimento dei doveri interrogabili di solidarietà tutti devono contribuire devono essere solidari con le persone che hanno più bisogno l'articolo 2 è l'articolo dedicato alla solidarietà italiani non possono girarsi dall'altra parte quando vedono una persona in difficoltà questo è stabilito dall'articolo 2 della nostra costituzione ciao al prossimo video vi aspetto